Edoardo Zardini e quindi penso che come inizio e come visibilità sia interessante per quanto riguarda questa novità. Finché vediamo scendere i liciatori, lo Sciclub cosa fa? Fa tutto quello che fanno tutti gli altri Sciclub, con la particolarità di avere la fortuna di vivere in una valle eccezionale e che quindi dà anche la possibilità a ragazzi di crescere, di diventare magari degli atleti e se proprio proprio non ce la fanno li manderemo a fare i maestri di sci come si raccontava una volta. È l'ultimo obiettivo per gli atleti che quando partono nella categoria baby e cuccioli arrivano fino ai giovani visto che in squadra ne arrivano pochissimi. Tu sei stato uno di quelli che è passato nel nostro club e quindi credo abbia ancora oggi un ricordo piacevole di quello che abbiamo fatto e quello che faremo nel futuro. Sì, dici veramente bene. È fondamentale avere per tutti i ragazzi lo Sciclub che ti dà una mano perché fondamentalmente da solo non potresti fare nulla. Quindi l'aiuto dello Sciclub che ti mette a disposizione i tecnici, le organizzazioni delle piste per gli allenamenti è fondamentale per chi ama per questo sport e soprattutto per chi diventerà magari un campione. Sono pochi veramente quelli che arrivano perché c'è una concorrenza guerrita però il bello di questo sport è che puoi fare le gare fino a una certa età e dopo comunque hai un lavoro perché diventando maestro di sci hai un lavoro fondamentalmente è importantissimo che lo Sciclub dia. Questo aiuto allo Sciclub è veramente importantissimo. Comunque anche per l'organizzazione di un campionato italiano comunque c'è una macchina dietro che lavora grandissima e gli allenatori dello Sciclub fossero un po' fondamentali per questo aspetto, tracciature, preparazione della pista e questo è importantissimo. Assolutamente, vedo quello che è stato fatto quest'inverno e quest'inverno è semplicemente l'arrivo dalla fine di questa stagione. Pensiamo che sì c'è in pista, c'è un comitato organizzatore grandissimo per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo però immediatamente dietro abbiamo fatto delle gare fiss di Super G e a Matteo visto che ha vinto anche oggi Super G ho dato l'appuntamento alla finale del prossimo anno visto che l'anno scorso è venuto, ha fatto una gara di Super Gigante e l'ha vinta. Quest'anno discesa e l'ha vinta. Super G e l'ha vinta. E io ti ricordo quattro anni fa se non sbaglio sempre in Super Gigante dopo la Coppa del Mondo femminile, io sono arrivato secondo e lui ha vinto. Quindi a lui piace vincere la Cortina. Le piace la pista di Cortina e quindi è un, diciamo che la fame viene mangiando, speriamo che possa farlo anche il prossimo anno quindi benissimo e quant'altro. Sulla stessa pista poi la settimana scorsa abbiamo fatto un evento che per quanto riguardano i piccoli del Veneto penso che sia una, se lo ricorderanno per un bel pezzo, visto che abbiamo fatto per la seconda volta di seguito la finale della Lattebusche, Lattebusche che è un trofeo che sono 42, 41 anni che lo fanno. È una partenza, i ragazzini li vedi partire dagli giovani perché sono dai 7 anni ai 10 anni quindi è veramente il trampolino di lancio per futuri atleti sicuramente. Io ero qui, sono venuto a vedere tantissima gente, organizzazione come al solito impeccabile, con la premiazione alla conchiglia per me è bellissima perché c'era veramente tanta gente, tanti bambini e tutti molto molto contenti. Sì, quindi benissimo, adesso proseguiamo la stagione e quindi fra poco, oltre un mese finiamo la stagione visto che noi comunque fino al primo di maggio continueremo a fare l'attività, gli allenatori faranno i programmi già per la prossima stagione e quindi siamo pronti a finire in bellezza e a ricominciare a tempo pieno. Tu lo sai meglio di noi che ormai lo sci, e quindi parlo non solo di sci alpino ma parlo anche di sci nordico, sta diventando un lavoro per i ragazzini in proporzione all'età che hanno ma che diventa 365 giorni all'anno. Non ci si riposa veramente quasi mai, forse il mese di maggio è un mese un po' più tranquillo, poi si inizia però con la preparazione atletica, poi si va negli acciaio, veramente c'è un lavoro dietro le norme, impegna tantissimo i ragazzi e anche un modo per tenere i ragazzi impegnati, lo sport ti porta anche a capire quali sono i valori dell'allenamento, del sacrificio e anche i valori di rispetto delle altre persone, secondo me è fondamentale anche questo, soprattutto quando i ragazzini sono più piccoli. Assolutamente, quando imposti in maniera precisa e delle regole precise c'è un rispetto quando diventeranno degli adulti di quello che è la loro vita quotidiana che è eccezionale, un ragazzo che fa un'attività di qualunque club sia, ma che fa un'attività completa e continuativa in maniera professionale quando sarà un adulto, sarà sicuramente un imprenditore di se stesso o comunque un ottimo professionista. Sì, veramente questo sport ti insegna queste cose, è la parte fondamentale soprattutto dei ragazzini, poi campioni ce ne sono veramente pochi, io a memoria ricordo proprio in questa valle, diciamo il primo possiamo dire la Statochiedina, delle ultime generazioni, poi c'è stato Eduardo Zardini, Wendy Surprise e io, per questo tantissimi ragazzi che si allenano, comunque in tutto il Veneto ne arrivano veramente pochi ad altissimo livello e questo è il bello anche perché ti dà soddisfazione quando arrivi, però è il difficile di uno sport che ti richiede tanto e i campioni sono pochi. Sono veramente pochi, noi abbiamo la fortuna, tra parentesi anche io ho la fortuna e l'impegno importante di seguire il mondo del fondo e non dimentichiamoci l'atleta che oggi abbiamo in punta che è Anna Comarella, un atleta di fondo che sta dando degli ottimi risultati come inizio, vediamo cosa succederà nel prossimo futuro e quindi anche da quella parte è una cosa nuova. Sì, sicuramente poi è bello anche per lo Sciclub avere comunque tre ragazzi che hanno sciato per lo Sciclub che poi adesso fanno parte, aiutano e collaborano comunque con l'organizzazione dei mondiali, richiamo Ghedina, il testimonia, il numero uno, insomma chi meglio di lui può rappresentare Cortina nel mondo e poi abbiamo Eduardo Zardini che tu hai detto bene, è proprio il direttore di gara della pista col Drusce, sarà direttore di gara al prossimo anno alle finali e al mondiale soprattutto, lui slalomista che è riuscito a fare anche un po' in Coppa del Mondo e stare nei primi 15 per tanti anni può dare veramente tanto anche sotto l'aspetto delle conoscenze di come si può preparare una pista. Sì, bisogna poi che ci ricordiamo anche di qualcuno che è magari forse più importante, credo che il nostro direttore tecnico generale, quello che ha scelto di fare le piste, quindi Alberto Ghezze, mio è stato anche mio allenatore in squadra C, ha allenato la squadra di discesa, ha allenato il Gheedo per dieci anni, quindi comunque questo per farvi capire quant'è preparata la gente che sta lavorando adesso, le persone che stanno lavorando per questo evento. Assolutamente, lo stesso Michele Di Gallo che è diventato direttore generale della Coppa del Mondo, è stato un nostro atleta, è stato un nostro direttore tecnico, è il nostro direttore tecnico e quindi è sicuramente una persona assieme a tutti gli altri, al Ghespa, Federico Gaspari, atleta e dieci anni che fa l'allenatore, Roberto Gilarduzzi, quindi abbiamo tutti i ragazzi che hanno fatto un ciclo, sono passati dalla categoria baby e cuccioli, sono cresciuti, sono arrivati dove sono arrivati e oggi sono qui, che danno la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di dare questo massimo per quanto riguarda i risultati. Questo è un valore aggiunto perché veramente avere dei tecnici così capaci, non tutti li hanno, io ho girato un po' la Coppa del Mondo e avere così tante persone così capaci e così brave, da altre parti non le ho viste, è una cosa sicuramente molto positiva. Sono contento che tu confermi quello che è stato fatto. Io giorni fa ero sulla discesa e un mio carissimo amico, lui fa il rappresentante delle scioline per tutti gli schimani della Coppa del Mondo, appena arrivato in partenza ha detto io non ho mai visto un campionato italiano organizzato così bene, perché veramente è organizzato in modo impeccabile, perfetto, preparazione delle piste fantastiche, anche allestimenti, reti, io non mi sono rimasto impressionato e ci fa piacere questa cosa. Cortina si è sempre messa in luce per quello che è l'attività, ricordiamoci che sono più di vent'anni che faccio Coppa del Mondo e sono sempre stati, le piste sono sempre state amate dalle donne e ancora oggi, ancora di più, con quello che è stato fatto sia per il Campionale Coppa del Mondo ma anche per questi campionati italiani, fa sì che veramente ci sia una crescita e un'immagine del territorio che è eccezionale. abbiamo la fortuna di essere in un posto fantastico, però siamo bravissimi e sono veramente bravi gli uomini che sono in pista. A valorizzarlo, perché bisogna avere la materia prima, è fortuna, valorizzarla e tranne vantaggio è bravura, quindi sotto questo io dico sempre che Cortina è il posto dove la preparazione delle piste è la migliore in assoluto, perché l'ho vista, l'ho vissuta, ho girato, ho guardato tante cose e Cortina non sbaglia mai. Sono contento, io credo di potervi lasciare alla diretta e magari vado anche a dare una mano agli uomini che ho a dare una risciata. Giusto, 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 quindi grazie al presidente della Scicla di Vigor, Ghedina e noi continuiamo ad andare avanti con un altro ospite che ci spiegherà, ci spiegherà, che chi meglio di lui ci può spiegare l'evento mondiale di Cortina 2021, amministratore delegato proprio della fondazione, quindi meglio di così non si può avere. Ciao, buongiorno a tutti, direi che sono state delle giornate importantissime, innanzitutto delle giornate, un paio di giorni bellissimi perché abbiamo provato la pista vertigine che, come dicevi, è la pista del mondiale e quindi diciamo, a parte che siamo molto contenti di come sono andate, prima le prove e poi le gare perché sono state delle giornate molto belle, ma sono anche state utili proprio in ottica delle finali e poi del mondiale perché hanno permesso agli atleti e anche ai tecnici di fare tutta una serie di valutazioni per metterla a puntino ancora meglio. Soprattutto, visto che siamo entrati un po' nello specifico e nel tecnico, soprattutto le varie tracciature che si possono fare su una pista non sono semplici, soprattutto in velocità, perché il gigante Slano, meno male, si si arrangia, è discesa, su una pista nuova e difficile, infatti sentivo anche di tanti atleti che si parlava proprio della tracciatura, si parlava di come può venire un passaggio, come può venire un altro e i tecnici soprattutto, allenatori e anche il grande capo della Coppa del Mondo, Marco Svan, è venuto qui apposta per vedere e per mettersi d'accordo con l'organizzazione come rendere ancora migliore questa pista, quindi è fondamentale, è un bellissimo test e penso che giornate del genere così belle e con delle piste preparate così bene, meglio non si poteva aspettare. Beh, in effetti siamo molto contenti, ho parlato anch'io con Marcus e quindi so che lavoreranno tutti insieme, quindi i tecnici FIS e i nostri tecnici proprio per capire quali sono, per cominciare a conoscere anche questa nuova pista, la vertigine, in modo da prepararla al meglio per le prossime gare. E logicamente il Mondiale non è solamente pista, è anche un po' quello che ci gira intorno, insomma gli eventi collaterali, il miglioramento delle strade, insomma Cortina sta andando avanti anche in questo aspetto. Assolutamente sì, il Mondiale è una grande opportunità per Cortina e credo che Cortina la stia veramente prendendo nel modo giusto proprio come opportunità. Quindi ci sono tante ristrutturazioni alberghiere, ci sono gli impianti che si stanno rinnovando, ci sono degli interventi che farà l'ANAS sulla viabilità che è sempre molto importante e c'è una risposta di tutta la comunità a questo bellissimo evento. E quindi diciamo abbiamo davanti due anni di lavoro ma con una comunità che capisce, che segue l'importanza e che crede nell'importanza di questo evento, quindi saranno due anni molto intensi, molto belli e poi chissà c'è sempre così un orizzonte ancora più ampio. Speriamo, speriamo nel 2026 di poter portarci a casa anche le Olimpiadi, sarà difficile, non è, insomma, noi siamo pronti, io vedo che siamo pronti, si sta migliorando giorno dopo giorno e soprattutto sotto l'aspetto tecnico non c'è niente da dire, sotto l'aspetto organizzativo si stanno facendo grossi passi in avanti, come già detto durante la Coppa del Mondo Feminiere, l'area d'arrivo fatta nuova, veramente molto molto bella, quest'anno le gare sono state spettacolari, c'era tantissima gente, veramente, forse uno degli effetti degli lavori che si è notato di più sulla pista dopo l'area d'arrivo era molto molto bella. L'area d'arrivo quest'anno era veramente molto bella, grazie per averlo detto, molto più ampia, abbiamo avuto il doppio degli spettatori dell'anno precedente, quindi molto bene. Per quanto riguarda la candidatura olimpica, è una candidatura molto forte quella di Cortina e Milano e abbiamo comunque una concorrente molto molto seria che è la Svezia, ma come dicevi tu noi siamo pronti e ci sono le possibilità, siamo in due uno o l'altro, quindi speriamo, perché potrebbe essere ancora un altro step in avanti per Cortina, ma per l'Italia in generale non è solo Cortina, questa volta ci sta anche Milano, ci sono tante località e quindi speriamo di prendere perché è un evento pazzesco, io nel 56 non c'ero, però nel 2026 ci possono essere, sono molto contento di questo e vediamo. incrociamo tutti le dita e speriamo. Bene, noi ringraziamo Valerio Giacobbi per l'intervento e penso che andrei a vederti la seconda manche, adesso noi andiamo a commentare questa seconda manche che vede l'inversione delle 30, quindi grazie a tutti. Mentre noi abbiamo visto già la prima atleta arrivare fino, quasi fino in fondo, purtroppo è uscita alle ultime porte, questi atleti sono veramente molto molto giovani, hanno la possibilità di misurarsi con delle atlete sicuramente più forti e più esperte soprattutto, con anche un palmarès dietro molto importante, però la possibilità di sfruttare al meglio la pista, la pista adesso è veramente perfetta in condizioni ottimali, con i primi pettorali si può veramente fare delle belle manche, conterà per loro soprattutto il tempo di manche, visto che il ritardo dalle prime è veramente esponenziale, ma queste ragazze sono veramente molto molto giovani, ricordiamo che ad esempio la Anna del Fabro aveva 5 secondi e 8 da recuperare alla prima in classifica, quindi per loro conterà tantissimo il tempo di manche e affrontarsi e confrontarsi soprattutto con il miglior tempo eventuale di manche che verrà fatto da tette più forti, ma sappiamo che la pista spesso e volentieri crea, cioè fa delle differenze, è così in Coppa del Mondo dove si viene, le piste vengono preparate in modo fantastico e qui non c'è niente da fare, il tracciato conta e la pista conta sempre quel qualcosina in più. Oggi giornata di ospiti, arrivano uno dopo l'altro, dopo i grandi capi, arriva una nostra amica, amica di Cortina, ex atleta della squadra nazionale anche, e adesso ci racconterà un po', forse lei al momento, beh lei si chiama insomma Giulia Candiago e è molto all'interno della Coppa del Mondo perché segue a tutte le gare Lara Gut, quindi la mia prima domanda è qual è il tuo lavoro con Lara Gut e che cosa fai per lei? Beh intanto buongiorno a tutti, beh allora il mio lavoro cos'è? Seguire da vicino, molto 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 vicino, una delle migliori atlete al mondo, magari sta avendo delle stagioni un po' complicate però è comunque sì, è stata una delle migliori atlete al mondo per dieci anni e adesso sì, sta insomma, sta tribolando un po', come si dice in gergo e niente, il mio lavoro è tendenzialmente occuparmi dei media, della stampa, dei sponsor e delle varie attività da fare con lei, poi c'è un sostegno magari psicologico e morale, soprattutto nei momenti difficili. Esatto, non indifferente. Però mi viene da dire che effettivamente la prima stagione dove Lara forse non è andata così bene, negli ultimi dieci anni è sempre stata protagonista all'inizio in tre discipline, poi magari un po' più in Super G, poi ogni tanto più in Gigante, comunque insomma ha avuto una stagione difficile, capita un po' a tutte, però tu parlavi bene del tuo lavoro che proprio a livello mediatico, qui media e che per un atleta soprattutto come lei così forte è richiestissima e non è facile da gestire perché un atleta è impegnato veramente 24 ore al giorno e se c'è qualcuno che l'aiuta è importante. Sì, soprattutto è una delle atlete più esposte, beh in Svizzera è l'atleta più esposta, quindi anche per il fatto che comunque parla cinque lingue quindi comunque mediaticamente diventa subito un caso, no? Come poteva essere Latina Mazze al tempo che comunque parlando tutte le lingue che parlava alla fine i media ti cercano ancora di più. Quindi alla fine sì, devi mediare tra tutto quello che esce nei media, tra tutto quello che non vuoi fare uscire, però ovviamente tutte le critiche che poi a un certo punto arrivano devi in un certo senso magari metterle in maniera positiva e questo è gran parte del mio lavoro. Comunque comunicare anche tanto con i media che magari possono essere più critici per far sì che un'immagine diventi più pulita di quella che poteva essere senza una comunicazione dietro insomma. Sì, infatti è un lavoro importantissimo perché tante volte magari qualche dichiarazione magari presa a caldo dopo la gara può essere anche un po' fraintesa e questo non fa mai piacere, soprattutto all'atleta perché poi magari si rende conto di aver detto qualcosa che magari pensava al momento dato anche magari della brutta prova che hai fatto. Ma sì, poi sai sono le manipolazioni, cioè sono le manipolazioni da una parola si fa un titolo e poi tutti gli altri giornali seguono a ruota e quindi diventa un caso e lì bisogna veramente essere bravi a riflettere su cosa è successo, riflettere sul perché è stata travisata questa cosa, riflettere a come porre rimedio e tenere soprattutto, spesso mi capita comunque anche a fine gara, quando una gara è andata male, spesso mi capita di dire bene adesso respiriamo un attimo e riflettiamo su che cosa andremo a dire nel momento in cui ci mettiamo di fronte a televisioni, giornali e via dicendo. E allora, io credo che sia adesso un ruolo importantissimo, non fondamentale, cioè adesso non voglio darmi un'importanza. No, però sono tanti piccoli pezzettini che magari la gente non sa che ci siano, neanche come per esempio lo ski man, è una figura fondamentale, però è fondamentale anche avere un consigliero, ma lo vediamo magari nei big. Io soprattutto che commento il settore maschile vedo Irsher sempre col padre al suo fianco, sembra che se non ci sia il padre succeda qualcosa di grave, ma Irsher ha bisogno veramente di avere al suo fianco suo papà, come magari altri atleti hanno bisogno della mamma, dell'amica, è fondamentale per la gara proprio in sé, per la prestazione. Ma io credo che sia anche un discorso di routine diventa, no? Perché tu comunque ti crei attorno a te un team di persone di cui comunque hai fiducia e ti dimostrano dall'altra parte fiducia e quindi sai che con loro tu puoi essere te stessa al 100%, non devi avere filtri quando devi averli per tutto il resto del tempo. E invece con quel team di persone tu sei tu. E quindi se sposti qualche pedina poi diventa complicato di nuovo ritrovare l'assetto giusto. Quindi Irsher che dice, cioè suo padre da tutta la sua vita con suo padre è suo padre, suo padre non potrà mai tradirlo. Mai. Infatti per questo tanti atleti cercano vicino a sé i parenti, il papà, la mamma, anche la stessa Lara, è sempre tornata da suo papà perché è la persona che ancora di più ci tiene che tu vada forte e ti fa più di te, quindi è importante, sono figure importantissime. Io trovo che tra l'altro questo tipo di figure sia anche importante averle magari non ovviamente dedicato, però nei settori giovanili anche quello è importantissimo, cioè far crescere i giovani insegnandoli già come porsi davanti ai media, davanti alle televisioni, con gli sponsor, è un discorso importantissimo, cioè io per esempio stavo sviluppando un progetto con Anna Jelusic che tu conosci, di una sorta di academy per giovani talenti o meno, nel senso che può essere magari intrapresa da uno sponsor che crede in questa persona, in questa atleta, per insegnargli a come porsi davanti a queste entità che magari lì per lì sono più grandi di loro. Anche perché spesso può succedere molto più spesso nel settore femminile, arrivano in Coppa del Mondo e magari arrivano a vincere molto molto giovani, abbiamo avuto un esempio dopo le finali con Alice Robinson, classe 2001, vuol dire il secondo anno giovani, che già ha fatto un podio in Coppa del Mondo. A quell'età lì, a solamente 18 anni, è difficile anche sapersi porre davanti ai media, quindi avere magari un supporto è importante, come può essere un supporto che ti aiuti magari a trovare uno sponsor. Esatto, cioè infatti Alice Robinson, per una serie di coincidenze comunque c'ha Enrica Cipriani, che la supporta adesso, che comunque fino all'anno scorso ha da fianco. È bello che sono tutti ex atleti, che aiutano altri atleti, questo è bello, invece quando sei un collega, diciamo, nessuno aiuta nessuno. È bello che quando poi finisci la tua stagione, la tua carriera d'atleta, ti metti a disposizione dei tuoi colleghi anche. Beh, ma perché c'è un feeling diverso, c'è un'empatia diversa, alla fine noi conosciamo i ritmi, conosciamo i momenti, conosciamo i momenti in cui si può disturbare, i momenti in cui non si deve... Esatto, proprio quello è l'aspetto. È proprio una dinamica, un balance nel trovare il momento giusto e dire la cosa giusta al momento giusto. Esatto, esatto. Quindi è importantissimo. Invece se andiamo a parlare dell'aspetto proprio tecnico di questi test, perché per noi alla fine è un test, no? Questo dei mondiali. C'è le piste, come tu vieni qua da tanto, che vieni a Cortina, la conosci, la pista dell'Osano non la conoscerai, l'avrai fatta magari da turista. È una pista molto bella, no? No, è sicuramente una pista molto tecnica, poi ovvio che oggi le condizioni della neve sono un po' morbide rispetto a quanto potrebbe essere in una finale, ma in un mondiale, più che in una finale. Il mondiale sarà completamente barata, quindi sarà ghiacciata e sarà tutt'altra cosa. Esatto, un challenge. Per quanto riguarda la discesa, anche i ragazzi hanno detto che comunque si sono divertiti, è una bella discesa. Nel senso, secondo me sarebbe stupido paragonare una discesa come questa a una discesa tipo di Kitzbühel, cioè è ovvio. Però comunque segue, ha delle caratteristiche importanti e dove, insomma, si può fare la differenza. È una bella pista proprio da mondiale, una bella pista da mondiale. Ci sono tratti tecnici, ci sono dei bei salti, ci sono pezzi un po' più semplici. Infatti, non a caso, abbiamo visto proprio gli italiani qualche giorno fa. Inner, che diciamo è molto tecnico, comunque ha detto la sua. Come l'ha detta Dome, che è uno un po' più scorrevole. Certo. Marsaglia, che è puramente tecnico, è riuscita a vincere sia discesa sia al Super G. Quindi ci fa capire che comunque è una pista tutto sommato completa. Ci sono un paio di passaggi spettacolari. Kitzbühel rimarrà sempre. Certo, assolutamente. Kitzbühel ce n'è una. Non ce n'è neanche una che si avvicina minimamente. Poi ovviamente, nel senso, la condizione della neve farà una grossissima differenza. Perché me la immagino con una lastra di ghiaccio tipo Bormio. Diventa interessante. Diventa secondo me un bel challenge. Eh, diventa interessante. Vedremo comunque, insomma, come i test stanno andando veramente molto molto bene. Anche io ho lavorato in pista fino a prima. Insomma, abbiamo buttato talmente tanto sale che anche la prima mancia ha tenuto benissimo. perché tanti atleti sono riusciti a sciare senza problemi. Era veramente molto bella, nonostante le alte temperature. Perché c'è veramente un'ondata di caldo pazzesca. Beh, ieri ho lisciato 3-4 volte lo slalom della combinata e devo dire che ha tenuto anche quello. Sebbene sia ancora più esposto, probabilmente, quello già combinata. Sì, e poi ha fatto la combinata con la seconda manche che è partita verso mezzogiorno. Esatto, esatto. Il sole aveva preso tutto la pista. La prima manche è stata molto molto buona. La pista era perfetta, ma possiamo vedere anche questa seconda manche che, nonostante siano già scese 10-12 atlete, la pista sta comunque continuando a reggere molto bene. Sarà interessante andare a vedere le prime 15, che siccome ovviamente hanno un livello superiore, ma soprattutto quelle che saranno in lotta per le medaglie, che sono a fine quelle che contano oggi, sono le medaglie. Poi ricordiamoci che oggi sarà l'effettiva ultima gara di Chiara Costazza, l'abbiamo detto la prima manche dopo tanti anni in Coppa del Mondo. Lei che comunque è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, è riuscita a fare due podi, 144 gare in Coppa del Mondo, se non ricordo male, ha deciso di smettere. Comunque ha smesso, riuscendo ancora a fare quest'anno due top 10. Certo. Quindi è... Sì, due top 10 e una serie di errori, purtroppo, che l'avrebbero portata probabilmente a fare anche una top 5. Sì, ma... Perché a Flakau, per esempio, stava facendo una seconda manche incredibile e sarebbe arrivata nelle prime cinque. Sì, come spesso succede a lei. Eh, purtroppo, sì. Però è l'atteggiamento giusto, insomma, di rischiare... Esatto, esatto. Nelle ragazze magari si vede un po' meno, o forse si fa un po' più fatica a recuperare dall'errore. Io noi lo vediamo spesso nei maschi, tanti sono proprio veramente a tutta. Perché se non vai al limite, prendi veramente i secondi. Sì, beh, ma infatti negli uomini, non so, in mezzo secondo ce ne sono 20, nelle donne in mezzo secondo probabilmente ce ne sono due ogni tanto. Se poi c'è i cifri in davanti devi aspettare un secondo e mezzo della seconda. No, e questo ci fa capire quanto comunque lei sia superiore alle altre, ma lei c'è un... oltre all'aspetto tecnico che... Ma lei è gestita... Madre sempre presente... Madre sempre presente... C'ha una detta stampa, c'ha un manager che comunque la segue sempre... Ex atleta anche lui... Ex atleta... Ex atleta... Esatto... Ex atleta... Ex atleta... Ex atleta... Ex atleta... Ma lo stesso Domme... Ci ho parlato questa mattina proprio... E lui ha detto... Io ho finito la benzina... Gli ho detto... Ma ti allena ancora un po' a fine stagione... Fa io... Ho finito... Basta... Non voglio più vedere le sci... E che lui ha finito... Alla grandissima... Alla grandissima... Cioè... Anzi... E' stato in aumentare tutta la stagione. Irsher è partito alla grande... Ha avuto un attimo di cedimento... Cioè... Ha dimostrato di essere... Un pochino umano... Anche lui... Eh... Infatti... Questo è... Ce lo dimentichiamo magari spesso... Ma sono... Cioè... Irsher... Tutti pensano che se non vince... O come Schifrin... Se non vince... E' una catastrofe... Cioè... Ogni tanto bisogna anche fare conto con le altre che sono magari più forti... O con una giornata negativa... Per cui... Insomma... Schifrin ha vinto fino alla fine... Eh sì... E' pazzesco... Non ha avuto tanti dubbi... Schifrin ha vinto 17 gare in questa stagione in Coppa del Mondo che sono veramente tantissime... Ha vinto tre coppie di specialità... Più in generale... E' una cosa ancora più pazzesca... E' bello perché lei si è gestita alla grandissima... Nel senso che... Io ricordo per dire qua a Cortina proprio lei ha venuto a fare solamente il Super G... Sì... Senza fare neanche le prove della discesa... E insomma... Io arrivando alla velocità... Se ho la possibilità di provare una pista in discesa per poi fare il Super G... Guadagni tantissimo sotto l'aspetto della confidenza... Di conoscere il tracciato, la pista... Lei è arrivata senza aver fatto nessuna prova... E ha vinto... E ha vinto... Quindi oltre ad essere gestita benissimo... Programmazione perfetta... Anche forza mentale... Sì... Perché quella che ci vuole per diventare dei campioni è tanto questa... Assolutamente... Perché quelli che arrivano in Coppa del Mondo... E tu lo sai meglio di me... Tutti possono vincere... Certo... Il campione... Non è quello che vince la gara... Punto... Eh sì... La fame... La fame di vittoria che hanno sia Schifrin che Irscher è qualcosa in più che nessuno ha... È pazzesco... Ma lo diciamo sempre... Sì... 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 Così è impossibile... Però c'è un bel giovanotto svizzero che sta lasciando alla grande... Che Marco Odermatt potrebbe diventare... Che si è infortunato però... Sì... Si è infortunato... L'ultima gara è a Soldeu... Si è infortunato... Quindi... Sì... Si dovrà tornare dal suo primo grosso infortunio... Sicuramente è un talento... Sicuramente tornerà... Non lo mettiamo... Nessuno lo mette in dubbio... Però... Si diciamo che ha avuto una sfortunina... Infortunina... Eh... A proposito di infortuni... Proprio questa che stiamo seguendo adesso... Michela Zola è proprio stata anche lei... Molto sfortunata nel periodo del suo maggior forma... Quando era in Coppa del Mondo... Riusciva a arrivare anche nelle prime eventi... Si è infortunata più e più volte purtroppo... Ha dovuto un po' cedere il passo a delle altre... Adesso fa segnare il miglior tempo... Quindi si mette in testa la classifica... E sicuramente un'ottima seconda manche per lei... Sicuramente potrebbe entrare nelle prime dieci posizioni... Ma la lotta per le medaglie... L'ha persa questa mattina nella prima manche... Quando ha commesso gravissimi errori... Purtroppo... Era tanti indietro in classifica... E... Deve recuperare... Un secondo e... Due secondi a 06... Per salire sul podio... Per vincere insomma... Sono tanti... Il podio è staccato di... Un secondo e tre... Molto molto dura... Che le prime... Che le prime sbaglino così tanto... Andremo a vedere insomma... Adesso seguiremo un po' le... Le prime dieci... Se ci vuoi... Fare compagnia... Se no ti liberiamo... Andare a vedere sul campo... Sul campo... Vedere... E fare il tifo... No più che altro devo... Irene Curtoni... Che è qua per... L'ultima gara della sua compagna di... D'avventure... Chiara Costazza... Dovete fargli la festa... Eh dobbiamo lanciare dei coriandoli... Perfetto... Allora ti vedremo in televisione... Lanciare i coriandoli... Ti liberiamo... Grazie per... Per la visita... Grazie a voi... E godetevi la giornata... Chi la sta... Vivendo dal vivo... E chi non la sta vivendo dal vivo... Dagli schermi... Grazie... Giornata perfetta... E io ti ringrazio... E ci vediamo alla prossima... Sicuramente... In giro per le piste di Coppa del Mondo... Con... 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 Con la Lara Gut... Che si riprenderà anche lei... Dal piccolo infortunio... Che ha avuto ricordiamola... Le finali... Di Soldeo... E... Mentre seguiamo le... Le prime... Le prime dieci... Della... La classifica della prima manche... Sicuramente molto... Prova molto questa piste... L'abbiamo già detto... Fisicamente... Perché comunque... Non è uno slalom così corto... Soprattutto è molto molto difficile... Bisogna arrivare fino al... Fino all'ultima porta... E stare nel... Nella linea... Lei ha... Sbagliato... E dato troppo lunga di linea... Proprio nella parte finale... Non è più riuscita a rimanere... Nel tracciato... Peccato perché era... Poteva raccogliere sicuramente una top ten... Recuperare anche le altre posizioni... Eh... Da... Lucrezio Lorenzi... E... Adesso andiamo a vedere la... Marta Rossetti... Che sicuramente anche lei... Ha fatto un po' fatica la prima manche... Ha sbagliato... Ha sbagliato tantissimo... Un po' come... Abbiamo visto sbagliare Costazza... Altrimenti sarebbe sicuramente più avanti... Ma una seconda manche... Che la vede essere sicuramente... Un po' più... Più determinata... Più in equilibrio... Più su tutti e due i piedi... Infatti non è... Fino al momento non ha nessun problema di linea... E va proprio a sbagliare... A incastrarsi... Nella neve... Che non è facile... Ancora forse più difficile... Di quella che abbiamo avuto nella prima manche... Con ancora più sale... È stato buttato... Per questa seconda... E... Le sensazioni che hai... Le grip... Che senti sotto i piedi... Con le sci... È veramente... Pessimo... Perché ti sembra di... Di fare fatica... A far tenere le sci... Non riesci proprio a... A essere in confidenza... E... E fa veramente tanta tanta fatica... Mentre andiamo a vedere... La Serena Viviani... Che è la prima manche... È stata veramente molto brava... Perché col pettorale 17... È riuscita a inserirsi... Nelle prime 8 posizioni... Quindi ottima... Veramente la sua... La sua prima manche... Ma c'è bisogno di rimanere belli... Belli in linea anche... Fino all'ultima porta... Perché abbiamo visto che in fondo... Continua... Continua a girare... E soprattutto... La neve non ti dà... Non ti dà quelle sensazioni positive... Quindi ogni piccolo errore... Lo paghi veramente tantissimo... Perché... Non hai tempo proprio di... Di riuscire a reagire... Come abbiamo detto... Anche questa seconda manche... È stata tracciata molto... Molto stretta... Perché... Il livello è talmente ampio... Che per rimanere nei parametri... C'è bisogno di mettere tante porte... E le porte sono assolutamente vicine... Ma fa segnare il miglior tempo... Alla grande... Con sei decimi di vantaggio... Su... Su Michele Azzola... Quindi ottima... Veramente la gara della... Della Viviani... Che dopo una bella prima manche... Si conferma... E... Con la possibilità di entrare... Nelle prime cinque posizioni... Nel momento... Nella pregiore delle sue ipotesi... Sarà ottava... Adesso vediamo scendere... La Roberta Midali... Classe... Eh... Novanta... Nove... Ma... Purtroppo in forca... Nella doppia... Peccato per lei... Anche lei è il numero... Quindici è stato sforzo... Un'altra con l'estrazione... Sicuramente... Ma si era ben comportata... Nella... Nella prima manche... E così la Serena Viviani... Guadagna un'altra posizione... Andiamo a vedere... La seconda... Diciamo... Straniera in gara... All'inizio si parlava... Nei giorni scorsi... Di la possibile presenza... Anche di Petra Vlova... Aveva fatto richiesta... Di partecipare qui... Proprio a... Allo slano... Per provare la pista... Poi probabilmente per... Altre decisioni... Forse trasferta un po' troppo lunga... Per lei... Comunque ha cambiato i programmi... Peccato... Perché la gara avrebbe... Raggiunto un livello ancora superiore... Sicuramente... Era un bel test... Anche per lei... Anche per... Per l'organizzazione... Insomma... Avere una... Un atleta di questo calibro... Sarebbe stata una cosa... Molto molto positiva... Mentre vediamo la parte finale... Di Gruber... Che... Fa dei numeri... Pazzeschi... E al secondo intermedio... Era in vantaggio di tre decimi... Vediamo se riesce a portarsi a casa... Il minor tempo assoluto... Si riesce a la fa per... Per veramente poco... Va a perdere tanto... Nella parte finale... Ma... Quel grave errore... L'ha pagato... Ma non più di tanto... Adesso si entra nella... Nella lotta per... Le medaglie... Soprattutto... Visto che... Il campionato italiano... È... Quello che conta... Sono proprio... I primi tre posizioni... E le medaglie... E per... Unterholzner era... Deve recuperare solamente un decimo... Per salire sul podio... Quindi... Sarà fondamentale per lei... Riuscire a portare a termine... Una buona gara... Poi... Dovrà aspettare... Aspettare le altre... Il suo ritmo non sembra così... Eh... Elevato... Un po' troppo... Alla ricerca della linea... E un po' troppo... Eh... A girare i piedi... Inizio curva... Quando vediamo quella neve che si alza... Eh... Vediamo proprio... Sono delle piccole frenate... Che ti danno... Ti danno fastidio... Ti fanno rallentare... Va a perdere... Ancora un decimo... Gli rimane solo un decimo di vantaggio... Vediamo se sarà brava... Nella parte finale... Dove ha... Ha sbagliato la... La di Gruber... Lei non... Fino al momento non ha nessun problema... E... Riesce a fare sicuramente più velocità... Infatti va a mettersi al comando... Eh... Ottima veramente la prova di... Eh... Petra Ulter-Otzner... Adesso aspetterà... Deve solo aspettare che scendano le... Quelle che sono state più brave di lei... Nella... Nella... Nella prima manche... E questa è l'ultima gara di Chiara Costazza... Che sicuramente farà una gara per provare a vincersi il campionato italiano... Se lo merita... Sarebbe un'ottima chiusura per... Per lei e per la sua carriera... È bello che abbia comunque deciso di... Eh... Fare la sua ultima gara per provare a un campionato italiano... E proprio qua a Cortina... Eh... Dopo la sua ultima partecipazione a... Alle finali... Di Soldeo in Andorra... La vediamo qui ancora a lottare per... Per provare a salire sul podio... E poi a vincersi una medaglia... Al momento... Al secondo intermedio... Un vantaggio di 6 centesimi... E si deciderà tutto nella parte finale... E la parte finale di Petra... Un terrozzo non è stata molto molto buona... Ma ricordiamo che Chiara Costazza prima aveva fatto la differenza... Proprio in questo... In questo tratto finale... E... Sembra aver interpretato tutto al meglio... Vediamo... Sono molto vicine... Però riesce a... A stargli davanti di due decimi... Quindi... Chiara Costazza va a far segnare il miglior tempo... E... Ci saluta così... La sua ultima gara... Vediamo se arriverà una... Se arriverà una medaglia per lei... Dovrà lottare con Martina Petterlini... Solamente 6 centesimi di vantaggio... Quindi... Non potrà permettersi di amministrare la gara... Anzi dovrà provare a rischiare... Però... La vediamo molto molto composta... Bella sempre con i piedi sotto... Sotto al corpo... Sempre bella in equilibrio... Sta sciando veramente... In modo... Ottimale... Infatti va a guadagnare mezzo secondo... Nella parte alta... Chiara Costazza... Che... Aviamo visto un po' in difficoltà... Sicuramente nella parte alta... Però... Ha dato il meglio di sé... Nella parte finale... Però Petterlini scia... Scia veramente molto molto bene... Sempre bella a tempo... Bella a ritmo... E con gli sci... Sempre per terra... Che... Riesce a sfruttare... A sfruttare al meglio... Vediamo... Sempre bella in conduzione... Vediamo se basterà per stare davanti... A Costazza... Invece va a perdere tantissimo... Nel finale... Quindi deve dire addio... Alla medaglia... E soprattutto... Arriva la medaglia... Per Chiara Costazza... Sicuramente sarà sul podio... Vedremo di che colore sarà... La medaglia... La scendere la... La romista più... Più promettente... Sicuramente italiana... L'ha dimostrato... Ha dimostrato... Di essere veramente molto molto forte... Soprattutto... Nei paralleli... E sappiamo che... Dal prossimo anno i paralleli... Entreranno ancora... Con più spinta... Nella Coppa del Mondo... Quindi avere... Essere bravi anche in questo... In questa disciplina... Ti fa sicuramente... Eh... Ti fa bene... Ti fa... Ti fa... Andare a fare salti avanti in classifica... Ma lei è veramente molto molto brava... Anche Sano... Infatti è andata a guadagnare... Otto decimi... All'intermedio su... Chiara Costazza... Sicuramente dalla Dallamea... E... La... Più forte... Che abbiamo visto sciare... Questa mattina... Prima mancia un... Grave errore... Nella parte alta... Però comunque è lì... In lotta per... Per la medaglia d'oro... Vediamo la parte finale di... Di Lara... Che la... Mette in testa... Con tre decimi... Poco più di tre decimi... Di vantaggio su... Su... Su Chiara Costazza... E... Chiara Costazza... Che comunque ha fatto segnare... Anche il miglior tempo di Manche... Quindi... Con solo 14 centesimi... Su Lara Dallamea... Ma la gara si... Si deciderà qui... Con... Veraccio Centale... Vediamo se la giovane... Questa giovane atletta... Riuscirà a mantenere anche la pressione... Perché come... Spesso succede... La testa ti fa fare... Ti fa fare quel... Valzo in avanti... O indietro in più... Ha sciato... Molto bene... Molto precisa... Su tutti i due i piedi... E non ha sbagliato niente... Nella parte alta... Rispetto a... Lara Dallamea... Va a guadagnare... Ancora... 43 centesimi... Quindi... Si sta dimostrando veramente... Molto... Molto tosto... Soprattutto sotto l'aspetto mentale... Perché non sta... Assolutamente... Tirando indietro il piede... Anzi... Si sta attaccando fino alla fine... Ma... Parte finale di Lara... È stata veramente... Ottima... Vedremo se riuscirà a... Portarsi a casa la vittoria lei... Dovrà lasciare alla giovane Lara... La vittoria... Sembra comunque... Molto molto buono... La sua parte finale... Risca qualcosa nel finale... Però... Va a vincere... Questo campionato italiano... Alla grandissima... Con nove decimi di vantaggio... Addirittura su Lara Dallamea... Quindi... Veraccio Centaler... Grandissima... Prova... La prima e anche la seconda manche... Fa segnare il miglior tempo... Anche nella seconda... Quindi nettamente... La più forte di giornata... Quindi... Chiudiamo... La gara... Col podio di... Veraccio Centaler... Che si vince il campionato italiano... Secondo posto per Lara Dallamea... E Chiara Costazza... Chiude al terzo posto... Una bella medaglia per lei... Che chiude la... La classifica... E noi... Con... Con questa classifica... Vi lasciamo... Alle immagini delle ultime ragazze... Qualificate... E vi diamo appuntamento domani... Con la... Con la... Con il campionato italiano... Maschile... Quindi sarà una gara ancora di livello... Sicuramente superiore... Di quella maschile... Perché vedremo tanti più big... Presenti domani... Il momento... L'orario di partenza è fissato... Intorno alle ore nove... Però oggi... Il Capitan Meeting... Si fisseranno gli orari... E... Vedremo... Insomma... Comunque voi collegatevi col sito... E seguite i social... E... Saprete tutto... Una rivederci da... Cortina D'Ampezzo... Da... Sì... No... Guarda... E... Guarda... Modica... Ma... Guarda... Non... E... E... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.